Hai visto preparare una ricetta in tv in La Cucina di Tadà e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice! Premi, freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tadà! Non te lo aspettavi, eh? Come sempre, eccoci qua, pronti, prontissimi ad aprire anche la nostra terza parte di Tadà dedicata alla cucina. Oggi è giovedì, quindi un giovedì sì, un giovedì no. Oggi è il giovedì sì del nostro risto macellaio Luca Menoni. Buonasera amici tadaisti, buonasera. Come stai? Stasera mi vedo un po' arruffato, vero? Eh sì, è arrivato all'ultimo secondo. Sì, perché vengo. Eri anche senza microfono prima. Vengo direttamente dalla bottega, quasi come sempre, ma oggi un po' più di sempre. Con tantissimo lavoro soprattutto, noi siamo felici di questo. Perché? Perché ti stai preparando alla Pasqua. Esatto, esatto. I nostri clienti hanno... Gli ordini si sono chiusi con ieri, giusto? Gli ordini si sono chiusi con ieri. E i clienti hanno risposto benissimo al tuo richiamo. Tutti quanti hanno risposto al nostro richiamo, hanno prenotato in tempo, fino alla mezzanotte di ieri sera. Gli ordini sono praticamente raddoppiati rispetto all'anno scorso. Saranno le nostre ricette, saranno le nostre proposte, sarà la qualità del nostro lavoro e soprattutto la qualità del nostro prodotto della tradizione. Io penso che sia un insieme di tante cose. Eh sì, eh sì. Che vi rende davvero unici, no? Vincenti. È proprio così, Carlotta. Mi sa che è un insieme. Dunque, stasera, invece di fare una ricetta lunga, che c'è da studiare, da spiegare tante cose, cosa ho fatto? Mi sono... Intanto ho portato, come ricetta ho portato un ultimo panino inventato, diciamo, recentemente da Elisabetta per la terrazza, per la rispicelleria. Grazie Elisabetta, e la salutiamo. Grazie Elisabetta, sei sempre attenta e, come dire, appassionata per il tuo lavoro. E soprattutto per i nostri clienti, che vengono a mangiare, che sono tanti tanteisti, e ogni tanto bisogna inventargli qualche piatto nuovo. Vogliamo parlare di tutti questi prodotti? Questi prodotti, sì, se ne parla un pochino alla volta. Prima ci dedichiamo alla nostra tartare BRG. Prego, regia, con gli ingredienti. Capperi, erba cipollina, senape, succo di arancia, maionese all'aglio, sommacco, giusto? Sommacco. E pane, ovviamente, d'hamburger. Pane per hamburger, benissimo. Perché hai deciso di chiamarlo così, tartare BRG? Perché è un panino, come vedrete alla fine, vedrete che è realizzato e lo si consuma come un hamburger, come un hamburger dentro un panino. Ma in realtà si va a utilizzare la nostra meravigliosa ciccia per tartare, che Elisabetta, la mattina quando arriva, seleziona dal banco, oppure gliela posso selezionare io se la finisce, la mette da parte, la taglia tutta a fettine, la snerva, la sgrassa, la prepara e poi la batte a coltello. Batterla a coltello vuol dire poi, quando la andiamo a mangiare, la... mordicchi, diciamo, i chicchini di macinata. Sì, 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 sì. E quindi sono morbidi, ma, come dire, rispondono al morso e buttano fuori sapore. Ok. Senti, io ti chiederai una cortesia. Anche due. Avrei bisogno... Di cosa, di cosa? Di un tagliere, che mi sono dimenticato di prendere, non ho fatto in tempo. Un taglierino di quelli c'è lì sotto, puoi? Sai quello là piccolino? Certo, che posso. Eh, grazie. Sparisco due secondi. Sì. Carlotta, ci sei? Eccola. Eccomi qua. Vieni. Va bene questo? Ottimo questo. Benissimo. Ok, lo otteniamo così. Grazie. Bene, bene, bene. Allora, per fare il nostro panino, come si diceva, il nostro tartare BRG, cosa fa l'Elisabetta? Prepara un pane. Panino da hamburger. Da hamburger. Lo si può fare anche con la classica rosetta, eh? Vediamo se lei funziona. Sì, dai. Sì, che funziona. Il nostro piano induzione? Effetto. Come mai? Tutti i giorni avete il terrore tutti di questo piano induzione? Che vi ha fatto di male? Ma perché qualche volta io vado lì che, insomma, vorrei funzionare e poi... Intanto sì, fa qualche scherzo, si emoziona. Sì, sì. Allora, si può fare... Ovviamente lo dividiamo. Lo dividiamo. Ok. E lo andiamo a far diventare croccante. Qualche secondo. Qualche secondo. Perché, lo sappiamo, no? Il pane è croccante. Sì, poi questo pane, questo pane qui in particolare, ma anche la rosetta, se lo serviamo caldo e con la crosticina che fa all'interno, proprio gli dà tanto al pane. Beh, non potete capire solo il pane che profumo emana. Cioè, infatti dicevo, ma di chi è questo profumo? Allora... Nel pane, che poi quante tipologie di pane avete da voi? Tante, diverse. Allora, per i panini appunto abbiamo quello al carbone, questo qui semplice bianco, poi c'è quello con i semi di sesamo, poi c'è la rosetta per i panini. Poi c'è pane ai multicereali, pane al farro e segale, poi abbiamo quello con il riso venere. Quello è il mio preferito? Quello con... Il pan... Il pan... Oddio, il panfrutto. Eh, il panfrutto. Il panfrutto, il panfrutto. Non l'hai portato. No, stasera no. Allora... Però mi ha portato il panino, quindi lo perdoniamo il nostro Luca. Allora, come potete vedere, la carne è stata battuta a coltello. Io mi ero avvantaggiato. Finisco di fare l'ultimo passaggio. Ok. Noi quando prepariamo questo panino diamo dai 180 ai 200 grammi di carne, eh? Ah, tanto quindi. È un panino... Ma anche sulla tartare è uguale, sono 180 grammi. Il panino che sazia, giusto? Sì. E questo, ci dicevi, è l'ultimo nato. Questo è l'ultimo nato, proprio perché così in terrazza si possa gustare le nostre sette tartare, poi abbiamo i primi, poi abbiamo il carpaccio, poi abbiamo il roast beef, abbiamo i contorni, abbiamo recentemente introdotto anche, dato il periodo, la tagliata di agnellone. Eh, infatti. La tagliata di agnellone. Volevi dire qualcosa proprio sull'agnello? Sì. Che è un prodotto... Un prodotto a filiera sostenibile. Sostenibile. Chi sta attento a queste cose lo sa, chi non lo sa glielo diciamo stasera. L'agnello, sì, è vero che si alleva, o meglio il pastore tiene il gregge, li fa pascolare, li fa spostare per i territori, però voglio dire, è un animale che non puoi alimentare la sera dandogli da mangiare nella mangiatoia, soprattutto l'agnello, ma mangia il latte dalla mamma, dalla pecora. Pertanto, possiamo sostenere appunto che l'agnello fa parte della filiera sostenibile. Chi ci sta attento a questo lo apprezza ancora di più. Pertanto, consumare l'agnello vuol dire non consumare tanto il territorio, non consumare tanto l'acqua e quant'altro, perché è una crescita naturale. Io oggi supervisiono il panino. Che pensi del panino? Mi sono presa questo incarico di non farlo bruciare. Come successe quella magna volta, se ti ricordi, va bene? È successo, davvero. Allora... C'era troppo fumo, infatti. Effettivamente. Allora, andiamo a prendere. Cucchiaio. Cucchiaio. Ok, cosa è che ti hanno chiesto per questa Pasqua? Gli andiamo... Mettiamo un pochino di maionese all'aglio, perché questo è il maionese che prepara... Maionese all'aglio? Maionese all'aglio. Oggi questa Elisabetta... Poi ci mette un pochino di senape. Ok. Quindi questo panino è stato proprio ideato da lei. È stato ideato da lei. Ma come funziona? Il sì definitivo è del gruppo? Il sì definitivo è del cliente. Del cliente. Bella questa. È del cliente, che è il nostro patrimonio principale. Poi è chiaro che ci confrontiamo. L'Elisabetta gli viene l'idea di fare un panino. Noi assaggiamo insieme. Se ci sono delle correzioni da fare, le facciamo. E poi il sì più importante, forse full, del cliente. Del cliente. Del cliente. Ok. Ti avevo chiesto Luca, cos'è che ti hanno chiesto per questa Pasqua? Allora, per questa Pasqua le persone ci chiedono preparazioni e ricette un pochino fuori dalla norma, oppure quelle non usuali, proprio perché si riuniscono in famiglia e hanno bisogno di mangiare cose un pochino da famiglia, e quindi non cose singole. Pasqua profuma di famiglia, di conseguenza. Certo. Andiamo a mettere su un macco. Ah, il su un macco. Il su un macco, che è una cosa, è un pepe piccante, diciamo una cosa che abbiamo scoperto recentemente, è veramente buona. Fra l'altro tutti gli ingredienti che troviamo lì a Sant'Ambrogio. Erba cipollina, giusto? Sì. No, erba cipollina, scusa, questo è porro. Ah, è porro. È porro. Allora, a questo punto cosa facciamo? Facciamo un impastino. Al posto dell'erba cipollina abbiamo il porro? Esatto, le foglie di porro. Avete capito? Dovete fare questo cambio. Diciamo, questa ora sarebbe come una tartare pronta, no? Perché, come gli è venuta l'idea, Elisabetta? L'è venuta preparando una tartare e immaginandosi, o pensando a quelle persone che dicono, ma io la carne cruda non la mangio, perché magari è fredda, oppure non la mangio perché la puoi liberare la padella, perché devo fare il passaggio successivo. Cioè, togli il pane. Ah, ok. Puoi togliere il pane, brava. La liberiamo? Eh, meno male. Lo puoi appoggiare, guarda. Anche là va bene, va bene. Poi si addopra. Vai. Allora, gli chiedevano di trovare qualcosa di non crudo, allora dice, perché non provare a cuocere una tartare alla piastra e metterla in un panino? Certo. Allora, ho messo tutti gli ingredienti, un pizzicotto di sale. E di conseguenza è nata l'idea. È nata l'idea. Mi ricorda ancora la tua ricetta nata dall'idea scendiletto. L'idea scendiletto, brava. Allora, questa è pronta. Perché è venuta proprio la mattina. Prima di arrivare a Tadà. La stessa mattina di... La stessa mattina. La stessa mattina che dovevo venire a Tadà, sì. Scendendo dal letto. Scendendo dal letto, brava. Allora, un filino d'olio, ma proprio un filo. Ok. Brava, abbassa un po' la temperatura. A tre? Ti va bene? A tre va bene. A tre va bene. Vai. Poi prendiamo... L'impastino. Una bella... Come se si realizzasse... Facciamo una bella pallina. Come se... Sì. Di solito lei lo fa col coppapasta proprio per avere anche la misura giusta. Certo. Va bene? Ma io ho un... Mano coppapasta. Una mano coppapasta. Una mano coppapasta. Ci piace, ci piace. Ehi. A questo punto gli fa fare proprio una scottatura da una parte e una scottatura dall'altra. A fiamma bassa, mi raccomando. Aspettiamo che l'olio sia caldo, poi abbassiamo la fiamma e così va bene. A proposito, io ho un saluto... Un saluto solo stasera, ma un saluto speciale. Uno solo. Uno solo, ma un saluto speciale. Perché è giusto. Loro sono dei tadaisti che mi seguono sempre, sempre, sempre. Anche se vanno a giro, i genitori chiedono di guardare in streaming la... Davvero? Davvero. E chi sono? Chi sono? E sono due ragazzini. Ah, quindi due ragazzi giovani. Due ragazzi, proprio due figliolini, due bambini. E sono della famiglia D'Alessio e sono Diego e Davide. Io vi saluto stasera solamente voi. Avete tutta la puntata dedicata a voi. Ciao Diego. E mi dispiace se l'altra volta me ne sono dimenticato, scusate. Vi avevo anche promesso e l'ho mantenuta la promessa. Quindi un grandissimo bacio a Diego e Davide. Davide. Un bacio a te. E questo piatto potrebbe essere adatto anche per voi. E buona Pasqua. E per buona Pasqua. Allora, fatta questa operazione lo dobbiamo girare. Li rigiriamo. E ci vuole un altro cucchiaio. Ok. Una bocchetta. Quindi un minutino. Mentre questo cuoce. Lo rigiriamo dopo un minutino. Ok. Vedi, praticamente la si va a scottare. Si potrebbe quasi anche aumentare la temperatura e magari mettere il coperchio. Di quanto? 4 o 5. Vai a 5, brava. Vado a 5. Perfetto. Allora, cari amici, mentre questo cuoce io vi racconto qualche cosina, diciamo, dei piatti di questo periodo. Certo. Per esempio, questa qui la apro perché è una ricetta che ho portato, ma è portata tanto tempo fa, per cui è bene ricordarla e farla rivedere perché questa è una delle cose, cioè tutte queste vanno molto, ma le cercano di più in questo periodo. Allora, questa che cos'è? Una faraona disossata. Dentro ci mettiamo la magna salsiccia, la famosa salsiccia magra di maiale grasso. Ok. Ci aggiungiamo i grilli di noce all'interno, i grilli di noce fuori, un gocciolino di brandy. La chiudiamo, la fasciamo con la mitica pancetta. La possiamo mettere sia salata che fresca, di quel famoso maiale brado della zona di Cortona. Sì, sì. E questa la potete cuocere in forno a 180 gradi al cartoccio per 50 minuti o un'ora, sfumandola con un gocciolo di birra, per esempio. Aspettate che si freddi, la fettate e via. Qui accanto abbiamo invece uno degli ultimi nati che non ho portato ancora a Tadà, quindi stasera è praticamente la sua prima uscita in pubblico, lo chiamiamo il pollo della tradizione, stasera diventa grande, lo conoscono tutti. Praticamente questo è il classico pollo che si fa un po' alla Fiorentina, si fa in Toscana, è praticamente pollo, formaggio e mortadella. Per riconoscerlo dagli altri, come vedete, la pancetta gliela mettiamo a croce, così sia i clienti che in bottega non si sbagliano mai. Bene, Carlotta, ti sembrava un'idea? Bellissima questa idea. Perfetto. Andiamo avanti. Questo lo lascio per ultimo. Ultimo. Qui, qui abbiamo la faraona. Sembra quasi la puntata che anticipa il Natale. Esatto. Però anticipa la Pasqua. Questa invece anticipa la Pasqua. Questa è la faraona e l'altra metà di quella, la sorella diciamo. Ma in tutto questo la tartare? Sta andando bene. Ok. Si sta andando bene perché la tartarina deve fare la piastatura. Ma senti il profumo? Eh, lo sento. Bene. Allora, faraona dove ci mettiamo la salsiccia macinata più fine delle altre, i pistacchi, poi ci aggiungiamo pecorino e ci aggiungiamo anche pecorino, pancetta, prosciutto a cubetti e pazienza. Questa la porto via. Si chiama la faraona 4P. La faraona 4P ci piace. Questa l'ha inventata Marco. Poi? Pistacchi, pecorino, pancetta, prosciutto. E poi lì cosa abbiamo? Questa invece è altra faraona con salsiccia e prugne. Ah. Salsiccia e prugne, ovviamente la solita pancetta fuori. Questa si consiglia come l'altra di cucinarla in forno a cartoccio o in casseruola. Se la fate in casseruola ci sta bene una mela a fettine e è aggiunto un golcino di vinsanto. Ti piace spesso accostare la salsiccia alle prugne? Sì. Che lo hai fatto diverse volte. Molto bene. Allora, qui invece abbiamo uno fra gli ultimi nati, ma portato qui a Tadà, stato presentato a Tadà. Questo è il coniglio, ripiero, con la verza saltata in padella con uvetta e pinoli e prugne. Me lo ricordo. Te lo ricordi? Me lo ricordo. E qui appunto c'è la verza che ricorda il piatto. Che bello. La ricetta. Coniglio disossato, bello disteso a mantello. Ci mettiamo la verza saltata in padella con un coniglio di olio, pinoli, uvetta e vere fuori. Guardate come... Questo qua. In forno un'ora e mezzo. Guardate come sta presentando tutti questi piatti, ovviamente, la ricetta con accanto i prodotti che ricordano... E che sono, diciamo, poi... Sono e fanno parte, i protagonisti. I protagonisti dell'ingrediente interno. Per ultimo... Protagonista attuale... Non per importanza di conseguenza... Protagonista attuale è il nostro agnello alla maremmana. Ta-da! Qui l'abbiamo portato anche alla cacciatora con le olive e i pomodorini. Agnello prodotto sostenibile. Esatto. L'agnello è un prodotto sostenibile, come si diceva prima. Cosa è questo? Questo è un coscio di agnello, perdonami. Un coscio. Come potete vedere, questo è un coscio intero. Si comincia a disossarlo dalla lombata, si tirano qua il rene, si va verso la coda e si toglie quest'osso. Si toglie l'osso del bacino, l'osso del femore e infine lo stinco. Questo si apre tutto a mantello, dentro ci mettiamo carciofi a spicchi saltati con aglio e prezzemolo e rosmarino, fettine di pancetta, scorza di limone e si arrotola e diventa un rotolo in quel modo. Questo è un piatto che le persone apprezzano molto. Questo è la qualità dell'agnello che lavoro io, che proviene dal casentino. Ok. Bene. Questa è una spalla di agnello che possiamo lavorare nella stessa maniera, disossando prima la scapola, poi l'ombro e poi lo stinco, poi il collo e facciamo un rotolino per quattro persone. Questo per sei persone. Qui invece abbiamo quella che diciamo è più nominata in questo periodo, cioè le famose cotolette per fare le fritte alla griglia. Uno dei modi di prepararla dopo delle bistecchine è quella di inciderla sotto, girarla così a corona e cuocerla in forno, con dentro un macinato. Ok. Quante idee, quante idee, Luca? Questa, la coratella d'agnello, con la quale ci si può fare l'africa a sea, facendola cucinare in bianco e alla fine con uovo e limone, oppure con carciofi, uovo e limone. Esatto. Viene una specialità. Allora, io sarei... A proposito del panino. Pronto. Pronto. Ci siamo. Tartar cotta. Tartar cotta. A questo punto. Il panino caldo dove l'abbiamo messo. Il panino caldo. Portamelo qua. In punizione. Te sei pronta? Io sono prontissima, finalmente. Sei pronta, pronta, pronta? Da quanto volevo il panino? Da tantissimo tempo. Da tantissimo. Da tantissimo tempo. Allora, mettimelo qui. Prego. Allora, possiamo prendere questo. Ok. No, scusami. Elisabetta, mi è pronta se no? Quindi... Perché c'è una sequenza negli ingredienti. C'è la sequenza negli ingredienti. C'è la sequenza negli ingredienti. Da rispettare importantissima. È sotto, visivamente, la maionese all'aglio. Spalmiamo la senape. No, la maionese all'aglio. La maionese all'aglio. Poi questa è la senape. Perché c'è la... Ah, perché c'è la senape. Questa è la senape. La mettiamo un pochino al centro, mi raccomando, mettila al centro. Maionese all'aglio. Un pochino di... Gli ingredienti li mettiamo anche sul pan. Il porro. Non è erba cipollina, ma è porro. Il sommacco. Il sommacco. Il sale non serve. No. A questo punto... La nostra tartare cotta. Cotta. Cotta ma non cotta, eh? Cotta ma non cotta. Perché abbiamo la crosticina fuori. Certo. Ma dentro è bellina. Ok. Supposa. Gli si rimette un pizzico, questo qui, vedi? Sopra, così. Un macco. Ci state seguendo? Perché poi da casa magari si divertono. O sennò cos'è che possono fare? Venire da te e comprare tutti gli ingredienti? Io gli posso fornire tutto. Gli vendo il pane. Gli vendo gli ingredienti, se voglio la maionese all'aglio, gli preparo la tartare e poi a casa realizzano la ricetta che hanno visto stasera. Anche perché no far divertire i figli, i bambini, almeno poi mangiano tutti. I bambini se cucinano, imparano tante cose. Mangiano tutto. Me l'ha insegnata una maestra. Una maestra che ho salutato anche qui. Soprattutto in queste giornate che dedichiamo alla famiglia, la Pasqua, ma di famiglia di conseguenza. Il bambino che cucina è un bambino che impara tante più cose anche prima degli anni. Grazie Luca. Sei servita. Vai a morso? Prima. O lo vuoi tagliato? Lo voglio tagliato. Lo vorrei tagliato. Prima scatterò la foto che sarà pubblicata, Luca, te lo ricordi? Dillo te. Io ho un po' di... Sui nostri profili ufficiali di RTV38, Play38, ovviamente sui profili anche del nostro Luca Menoni. Giusto? Davvero. La Risto Bacelleria, Luca Menoni e la botteghina di Luca Menoni. Troveranno anche tutti gli ingredienti per creare alla perfezione la nostra tartare BRG. Tartare BRG. BRG. Vuoi assaggiare anche te, Luca? Dopo, dopo. Io la assaggio dopo. Prima la assaggio io. Come si dice? Buon appetito. Adai sti. Adai sti. Buonissimo. Però... Questo è uno dei migliori panini di sempre. Grazie, grazie. E ringraziamo di conseguenza l'ideatrice del panino di Elisabetta. Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Buonissimi auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti i nostri clienti e domattina vi aspettiamo. Domattina e sabato siamo pronti per, vuol dire, deliziare la vostra tavola con i nostri prodotti. A tutti i tadaisti all'ascolto invece appuntamento come sempre domani 17.15 e adesso spazio all'informazione con il nostro TG della Toscana, il TG38. Ciao e buona sera a tutti e domani. Ciao e buona sera a tutti e domani. Grazie a tutti.